ciao ragazzi grazie di essere con me oggi oggi secondo video con i blue yeti in questo periodo lo userò un po' più spesso del solito perchè è una novità, è tipo un nuovo giochino e quindi sono troppo emozionata per non usarlo oggi proveremo insieme alcuni, non capisco se era la parte giusta, spero di sì alcuni nuovi suoni di oggettini che ho comprato apposta per il canale ce li ho qui di fianco e questo video non sarà particolarmente parlato ma sarà più concentrato sui suoni vi ricordo anche se non l'avete visto che è mercoledì oggi è venerdì sapete che io pubblico video ogni lunedì e ogni venerdì e qualche volta al mercoledì un video bonus settimana ho pubblicato un video speciale per i 100.000 iscritti di bloopers che spero vi sia piaciuto se non l'avete ancora visto andatela a vedere perchè su me è veramente carino e potete guardare un po' più di dietro le quinte ok partiamo con il mio suono preferito ok qui chi di voi come me ama il sono del lipgloss in realtà qui con me ho un secondo lipgloss però non fa un suono così bello questo l'ho preso appositamente per ragionare non sono amata di lipgloss e quindi un po' più non ho un po' più in realtà non ho un po' più perché non ho un po' più non ho un po' più più beh che grazie a tutti proviamo l'altro lipgloss per vedere un po' la differenza questo fa un suono bello quando è chiuso, viene chiuso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti comunque alcuni di voi mi hanno chiesto di provare a fare un po' di inaudible con questo microfono in realtà io voglio fare un video in cui confronto fare i trigger fra tutti i microfoni che ho questo video però richiede molto 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 tempo per essere registrato e per essere editato e tutto quindi dovrete pazientare ancora secondo me un paio di mesetti almeno però tutti i video arriveranno prima o poi in molti mi hanno chiesto anche un video in cui praticamente do solo a buonanotte come alla fine dei miei video anche questo lo farò però con calma ragazzi perché per ora riesco a fare video solo un po' più semplici un po' meno impegnativi quindi abbiate pazienza che io ai commenti leggo tutti 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 quindi se fate una richiesta diciamo che non vi aspettate che venga accolta subito e il giorno dopo di vedere il video abbiate un po' di pazienza continuiamo con una cosa che ho comprato per me ma che è un suono strepitoso abbiate un po' di pazienza e ho dato tantissimo tempo che cercavo un mascara con un suono così e l'ho trovato per casa quanto male perché non me ne neanche accorde che facesse questo suono e l'ho trovato per me poi ho comprato questo burburri e in questa parte del video sentirete il volume un po' abbassato perché fa un po' di casino e in questa parte del video come un po' abbassato? ok Grazie. Per questo microfono questo suono è troppo forte. Penso che l'unico microfono veramente adatto ai Gringlesounds sia lo suono, non so perché. Ho altri uno, due, tre, quattro trigger. Questo qui è un semplicissimo slime. Provo ad allargarlo un po'. E ora provo a fare una cosa un po' particolare. E ora provo a fare un po' particolare. E ora provo a fare un po' particolare. Questa è la bella per le amanti tipo dell'irga. Non è super particolare. E ora provo a fare un po' particolare. E ora provo a fare un po' particolare. Questa è un esperimento. ditemi cosa ne pensate e se vorreste vedere un video con un po' più di questo trigger io non so veramente come possa essere quindi non capisco ancora se mi piacciono quindi ditemelo voi ora guardate cosa c'è di nuovo ho comprato ancora una mascherina con le palline in cielo quindi per un po' di sticky fingers un po' di suono delle palline e cose così ok 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 Grazie. 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 Un rettissimo trigger, perché ho deciso di eliminarne uno per un altro video. Sono questi bastoncini per la colla calda, però anche la buonanotte. Buonanotte. Quindi, abbassiamo le lunghe. Spero che questo video vi abbia rilassato. Spero che abbia trovato almeno un agente che vi provoca previdi, 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 previdi. Spero che questo microfono vi stia piacendo quanto sta piacendo a me. Come siimi a替 notare la buonanotte? Buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte. U esse, bisogno di tempo, bisogno di tempo, bisogno di tempo a te, dei bellissimi sogni. Vi ricordate? perché in questi giorni mi sono ricordato più di una volta che siamo, siete, sei incredibilmente fortunato, fortunata ad avere questa vita, quindi trattela bene e cerca di non paragonarla agli altri, quindi vi auguro una buonanotte e una splendida giornata domani, splendida, 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 e noi ci vediamo lunedì con un altro video, vi voglio bene, spero che abbia tola notte, molto ristoratrice, un bacione, che rispira, che rispira, che rispira, grazie a tutti